buongiorno benvenuti no stavo guardando il cellulare in effetti è comoda questa cosa delle notifiche che arrivano su facebook e ti avvisa con il campanellino che inizia la rassegna stampa alle 7 del mattino salutiamo tutti quelli che si stanno già collegando sul cellulare quelli che invece ci seguono in quel metodo tradizionale cosiddetto il televisore quella scatola che ormai ci fa compagnia da tanti decenni buongiorno anche a voi questa è occhio ai giornali la rassegna stampa un commento alla stampa del giorno che comincia come sempre con il santo del giorno lo andiamo a vedere sant'anselmo d'aosta oggi è un santo importante un santo sì santo davvero molto importante alle 6 e 16 peccato non ci sia tempo per parlare anche di questi santi ma comunque 20 e 02 invece il tramonto adesso andiamo a vedere il tempo tra mercoledì e venerdì perturbazione torna il maltempo su gran parte dell'italia fine settimana più stabile caldo ultimi aggiornamenti da trebimedio.com la regione marchi questa mattina poi nel pomeriggio vedete un po di pioggia soprattutto a nord e a sud nel piceno e nel pesarese andiamo a vedere la giornata invece di domani che è quella che ci interessa probabilmente di più perché cambia il tempo vedete come la pioggia interesserà gran parte anzi tutta la regione Marche sia al mattino che al pomeriggio con una timida schiarita soltanto non so un sole sarà da vedere questo sole soltanto in quell'angoletto in alto in cima della nostra provincia pesarese ma comunque queste le previsioni del tempo allora andiamo adesso sui giornali Carlino di Pesaro fotonotizia corsa contro il tempo contro il tempo perché cosa perché si riapre si riapre con i tavoli all'aperto via le domande dei ristoratori ai comuni e rispettivi comuni per poter ottenere tutti i permessi e quindi allestire il più possibile i tavolini e sede per provare a riniziare a come dire guadagnare qualche soldino in più con la ristorazione mentre superiori qui si parla di scuola al 100% era impossibile ieri un incontro in prefettura poi la bozza del decreto che abbassa la presenza al 60% il nodo è sempre lo stesso quello dei trasporti come trasportare i giovani in modo sicuro da casa a scuola e viceversa poi la cronaca botte in piazza Redi a Pesaro parte la petizione dei commercianti e dei residenti per avere le telecamere c'è stata una lite tra adulti e tra ragazzini la tassa di soggiorno non versata albergatori rinvia giudizio e condanne poi screening agli studenti emergono solo falsi positivi accordo con la regione per i vaccini in farmacia comuni rossi scatano oggi le restrizioni appelli dei sindaci covid gravissimo una suora di 62 anni trasferita ad Ancona e poi nuovi cantieri anche il restyling della piazza la bicipolitana, nuovi tratti a Vismara e via Belgioioso poi le rotatorie e nuovi impianti sportivi e poi un parcheggio sempre a Pesaro per i caduti di Nassiria alle vittime dell'attentato sarà dedicata alla nuova area di sosta a Baia Flaminia Corriere Adriatico prove generali di vita post covid questo è il titolo d'apertura nella bozza del CTS e le regole per maggio ristoranti e bar attività al chiuso fino al 18 da giugno scuola, doccia gelata dopo il confronto non ci sono le condizioni per rientrare in classe al 100% fotonotizia del Corriere Adriatico scoppia il caso segretario il ministro firma Porto va ad Africano e poi tutti in classe gradualmente ora il governo parte dal 60% la cronaca da Pesaro dacci la sigaretta minorenni sferrono un pugno ad un passante a Urbino baby gang rapine minaccia un 19enne arrestato il capo e a San Patrignano sono rinata e ora salvo le ragazzine una storia di una fanese San Benedetto l'ex psichiatrico a Pesaro per il recupero della doppia strada della regione un'altra strategia per poter intercettare i fondi poi al via la verifica politica Fano per ora accordo solo sul metodo dunque il sindaco Seri incassa la fiducia zona gialla teatri e ristoranti ripartiamo dal covid teatri e ristoranti da lunedì le marche ci provano il nuovo decreto legge dal primo di giugno bare locali al chiuso potranno lavorare dalle 5 alle 6 del pomeriggio l'assessore Carloni dopo lo stato regioni dice nella bozza scelte che però non rispettano le attività resta intanto anche il coprifuoco lo stato di emergenza invece fino al 31 di luglio allora al chiuso questa è un po' la novità si potrà andare al cinema assistere a spettacoli in teatri sale concerto live club e altri locali sulla base dei protocolli approvati dal CTS comitato tecnico scientifico prenotazione obbligatoria un metro tra le persone di distanza massimo 500 persone al chiuso e mille all'aperto per alcuni eventi potranno essere riservati solo a chi avrà il certificato verde ed è questa la novità la vera novità contenuta in questo decreto anti covid un pass digitale questo certificato verde oppure cartaceo che servirà per spostarsi da una regione all'altra anche di colore diverso e che sarà rilasciato a chi è stato vaccinato oppure si è guarito dal virus oppure si è sottoposto a tampone ma per chi si sottopone a tampone quest'ultimo caso quest'ultimo certificato sarà valido però 48 ore mentre gli altri sei mesi il cronoprogramma prevede il 15 maggio l'apertura invece delle piscine all'aperto dei mercati e dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi allora oggi ci sono 5 comuni in tutta la regione Marche che passano da zona arancione a zona rossa questo cambio di colore questo ristringimento dalla mezzanotte quindi ormai da diverse ore nel Pesarese sono 4 Tavuglia Montelabate Acqualagna e Vallefoglia e poi c'è nell'Anconetano Cerretodesi allora noi siamo sulla pagina del Carriolo di Fano titolo Comuni Rossi oggi al via le restrizioni i sindaci invitano i cittadini attenzione negli spostamenti scattano i divieti decisi dalla regione dureranno fino alla mezzanotte del 25 di aprile c'è un'intervista con Ucchielli e con la sindaca di Tavuglia Ucchielli dice l'unica cosa che mi stupisce è che non hanno avuto nemmeno il coraggio di dire che attivavano una zona rossa in quattro comuni tra cui Vallefoglia e poi fa alcune considerazioni sono vietati gli spostamenti in entrate in uscita dal territorio comunale nonché all'interno dello stesso comune salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute sono tuttavia permessi gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza quindi se dovete accompagnare vostro figlio a scuola potete uscire chiaramente di casa però occorre sempre l'uso della certificazione e quindi Ucchielli che dice mi raccomando rispettiamo le regole ma dateci un punto per le vaccinazioni poi invece Francesca Paolucci che è appunto il sindaco di Tavuglia che dice in sostanza cambia poco anche se siamo rossi d'altra parte i lavoratori e studenti viaggiano come prima non è prevista poi una chiusura per negozi bar e centri commerciali diciamo che ribadiamo la necessità di andare il meno possibile in giro e di farlo con la massima attenzione e sistemi di protezione come le mascherine la microzona arancione scrive titola su Valefoglia il Corriere non piace neppure alle opposizioni da oggi a domenica sera divieto di uscire senza motivazione Valefoglia Montelabate e Tavuglia nonché Acqualagna appunto sono quattro i comuni la gente è stanca dice Carla Nicolini del centro-destra per Valefoglia magari anziché sbandierare sempre che la situazione fosse sotto controllo era meglio guardare in faccia la realtà credo poi che con il tempo la gente si senta stanca di tante restrizioni ed abbia abbassato la guardia allora un pass verde il pass verde è quello che possiamo definire insomma la novità di questo nuovo decreto che dovrà essere approvato ovviamente dal Consiglio dei Ministri allora dovrebbe entrare da lunedì in vigore questo nuovo decreto quindi penso oggi avremo sicuramente qualche cosa di più definitivo secondo la bozza di questo decreto che oggi passerà al vaglio del Consiglio una certificazione verde per gli spostamenti tra regioni di colore diverso un certificato potrà essere come abbiamo visto cartaceo oppure digitale e varrà sei mesi per i vaccinati e per chi sia guarito dal Covid per chi ha concluso un intero ciclo di vaccinazione sarà rilasciato dalla struttura sanitaria che effettua la somministrazione per chi è guarito viene rilasciato dall'ospedale oppure dal medico di base o dal pediatra varranno invece 48 ore come abbiamo detto poco fa i certificati per chi ha effettuato invece il test molecolare o antigenico quindi valgono anche quelli diciamo veloci rilasciati da strutture sanitarie oppure dalle farmacie il pass avrà validità in tutti gli stati membri dell'Europa ora attenzione perché il decreto norma il cosiddetto pass verde prevede anche sanzioni per chi falsifica quindi fa un documento falso per i furbetti tra le sanzioni è prevista addirittura la reclusione quindi c'è anche il carcere per queste persone ora la domanda è e spero che il decreto poi farà luce anche su questo se io devo andare in vacanza una settimana in un determinato posto non sono vaccinato non ho preso il virus perché sono stato attento sono stato bravo e vado in vacanza faccio il test oggi che per dire è venerdì ok mi dura 48 ore quindi sabato e domenica ma io ho una vacanza di 7 giorni che devo fare resto là devo farlo là per altre 48 ore cioè vado avanti a ricariche mi ricarico il bonus oppure che devo fare cioè questa è una cosa che spero venga contemplata sia per chi sta in Italia ma anche per chi va all'estero cioè le vacanze è vero che soldi magari ce ne sono pochi ma almeno 4-5 giorni per essere chiamata tale una vacanza bisogna che ci siano questi 4-5 giorni quindi si facciano ora di questo probabilmente qualcuno ci darà risposte intanto sul fronte scolastico il timore per un rientro di massa ha fatto sì che dal 100% di didattica in presenza si tornasse al 60% quindi una parte un 40% sarà di nuovo a casa per la didattica a distanza l'assessore Castelli dice il rischio è vanificare i sacrifici finora dolorosamente fatti bus hanno una capienza del 50% così le aziende chiedono ingressi scaglionati poi la parte invece sanitaria con il resoconto consueto del corriere di questa mattina sempre con sconocchini ricoveri meno 34% le terapie intensive allentano il pressing da una media di 10 a 3 accessi al giorno in reanimazione l'occupazione covid è al 36 dobbiamo arrivare al 30 quindi c'è ancora un 6% ma stiamo scendendo da 39 a 36 tra qualche giorno se il trend rimane questo chiaramente arriveremo a quella che è la soglia stabilita per decreto boom di dimissioni in area medica la saturazione torna sotto la soglia critica che è invece del 40% mentre sulla questione dei ristoranti ma quando parliamo di ristoranti che possono riempire parliamo un po' di tutti quelli che più o meno sono in quella situazione Uliassi dice il noto chef stellato apro solo il 5 di giugno perché? perché sotto i 24 gradi non si mangia ovviamente potendo mangiare solo all'aperto servire solo all'aperto sono necessarie condizioni climatiche anche perché se no uno poi gli prende una congestione voglio vederti lo chef stellato dice all'aperto è necessaria una temperatura ideale la paura la variante inglese dice si diffonde più velocemente attraverso il contatto ora si deve correre con i vaccini ristoranti all'aperto e si torna al cinema ma sul coprifuoco è braccio di ferro oggi il nuovo decreto si potrà pranzare nei locali al chiuso solo da giugno leghe Forza Italia contro Speranza il quale secondo appunto leghe Forza Italia porrebbe troppi limiti il coprifuoco è un altro di quegli argomenti l'abbiamo sentito anche in una intervista ieri e l'altro nel nostro telegiornale i ristoratori sono un po' perplessi dicono insomma ci fate aprire intanto con il disagio di dare da mangiare ai clienti all'aperto e il clima oggi non è certamente quello agostano e poi il discorso è che alle 10 devono tornare a casa quindi il rischio qual è? è che ci sia un sacco di gente che voglia andare a mangiare al ristorante tra le 7 e mezzo e le 8 e mezzo 9 perché poi alle 10 deve essere a casa quindi sarebbe stato meglio allungare il coprifuoco e quindi dare la possibilità di spalmare un po' nei ristoranti la clientela per esempio la prima fascia 7 e mezzo 8 e mezzo potrebbe essere quella dedicata alle famiglie fino alle 9 di sera poi dalle 9 e mezzo 9 e 9 e mezzo il secondo ricambio con i giovani le comitive eccetera eccetera questa è un po' la visione dei ristoratori poi chiaramente bisogna far tornare un po' dare un colpo al cerchio un colpo alla botte e la vedo un po' un po' difficile intanto spostamente arriva il Green Pass titola il resto del Carlino rischia il carcere chi lo falsifica sì stavo leggendo stavo leggendo un messaggio che nel frattempo è arrivato in diretta se non hai preso il virus non è che sei stato bravo sei stato fortunato non è vero li sento totalmente non è questione di fortuna è questione anche di intelligenza poi è vero che il virus è un nemico invisibile quindi lo puoi prendere anche se sopra pensiero ti gratti o togli qualcosa da un occhio con un dito dove c'è il virus quindi questa può essere sfortuna ma se uno sta attento quasi maniacalmente non si può dire che è fortunato ma che è bravo quindi se non prendi il virus è anche perché sei bravo c'è tanta gente brava c'è tanta gente invece che non è brava è anche un po' sfortunata chiaro arriva il Green Pass dicevo rischia il carcere chi lo falsifica per muoversi in Italia servono i certificati ma insomma anche questo io la vedo una grande limitazione adesso non ho ancora elementi per poter dare un giudizio personale ovviamente che serve per confrontarsi per condividere insieme a voi qualche pensiero ma credo a mio avviso che questa cosa del Green Pass del Green di questo certificato sia una grande grandissima limitazione della libertà personale non la vedo una gran bella cosa francamente ma comunque poi vedremo servono ancora un po' più dei dettagli per capire un po' meglio le cose poveri italiani sfibrati del Covid 6 milioni vivono nella paura 6 milioni di italiani ma secondo me sono molti di più quelli che vivono nella paura dall'ansia di salire sull'autobus a quella di dormire da soli il Censis indaga un anno di virus si chiamano panofobici i cittadini che hanno paura di tutto le donne sono il 17 quasi il 18% 16,3% i panofobici fra chi ha meno di 35 anni sempre della popolazione italiana insomma paura di tante cose non è solo paura del virus paura di subire un reato che però è diminuita questa paura paura insomma ecco ci sono varie paure tra cui anche anche quella chiaramente del virus poi sui vaccini invece l'Unione Europea sdogana Johnson & Johnson l'AIFA dice solo agli over 60 solo chi ha più di 60 anni potrà usare questo vaccino monodose via libera dell'EMA il quarto siero i benefici superano i rischi oggi le prime 184 mila dosi in Italia saranno limitate alla fascia anziana si sono registrati 8 casi di trombosi su 7 milioni di iniezioni e c'è stato solo un decesso mentre il generale Figliuolo incalza le regioni e fissa la quota delle iniezioni superiore il 60% il dietro fronte benvenuto siamo di nuovo su Pesaro in provincia non era pensabile far tornare tutti a scuola praticamente mentre sotto lo screening agli studenti sempre questa è un'iniziativa sempre tipicamente squisitamente del comune di Pesaro 5 positivi ma sono tutti falsi i test rapidi smentiti dal successivo tampone molecolare e alla fine su 660 ragazzi testati non spunta neanche un contagio ora questi erano falsi positivi bisogna vedere se tra questi ci sono anche i falsi negativi però comunque sia è bene laddove ci sia la disponibilità anche economica di farli se uno li può fare si fanno e va bene così trasferita invece ad Ancona una suora di 62 anni è grave si tratta di una religiosa delle clarisse di Urbino necessita di ECMO quindi un macchinario salvavita per il quale sono in aumento purtroppo le richieste sempre più difficile trovare posti liberi pochi giorni fa anche il caso del pizzaiolo 45enne Maurizio Pasini il titolare di una pizzeria davanti all'ospedale di Urbino risultato positivo al virus l'8 di aprile poi bruscamente peggiorato nel giro di pochi giorni anche lui è in ECMO le sue condizioni restano gravi per lui all'inizio di aprile un 59enne prima di lui anzi un 59enne di Mondolfo era stato trasferito nelle ambulanze all'ospedale di Pesero al Policlinico di Roma dove si trova un'altra delle macchine per l'ECMO il 59enne lo ricordiamo e lo ricorda Benedetta Iacomucci questa mattina sul giornale era arrivato all'ospedale del pronto soccorso di Fano il 12 marzo poiché l'apparecchio di Ancona era occupato insomma intanto invece sono in via di guarigione le suore del monastero delle clarisse capucine di Mercatello sul Metauro che erano risultate positive al Covid-19 il 27 marzo scorso mentre sempre da Fano fino a 16 cremazioni al giorno l'impianto non si ferma mai l'impianto fanese non si ferma mai la pandemia ha aumentato l'attività dell'impianto controllato da Aspes e Aset lo scorso anno ha ricevuto 1852 salme circa 700 in più del 2019 ed è stata aperta una seconda linea operativa adesso la cronaca con questa rissa in piazza Redi a Pesaro tra adulti e ragazzini e ora i commercianti chiedono le telecamere in giardino di fianco alla farmacia è scoppiato un litigio con aggressione tra un gruppo di adolescenti e un residente interviene la polizia che porta in questura alcuni giovani Enzo Giagnolini dice imbrattate le serrande serve la videosorveglianza e quindi parte da parte dei residenti la seconda raccolta di firme per avere le telecamere il grande fratello Dacci la sigaretta questo invece il corriere titola così sempre su questo episodio Dacci la sigaretta ai capelli bianchi passante pestato preso a pugni dalla baby gang i ragazzini portati in questura per accertamente su Instagram si vantano delle scorribande ma per fortuna diremmo noi non ci sono solo le baby gang tutti questi ragazzini dal cuore ferito ma ci sono anche i ragazzini invece dal cuore d'oro ed eccoli qua ve li faccio vedere in questa bella fotografia che pubblica oggi il resto del Carlino e che ci dà un po' di speranza perché chiaramente a leggere certe notizie viene il malumore a piedi e in joylette ovvero in questo in questa carrozzina per trekking sul cammino di Santiago il sogno di questo gruppo che si fa chiamare Belfortissimi farà 900 chilometri per poi tornare a Belforte all'Isauro alla festa del patrono e quindi un progetto che diventerà un'impresa sono dei ragazzini che passeranno il prossimo mese e mezzo quindi immagino durante l'estate e accompagneranno questo loro amico che sta appunto su questa catostella e faranno questa questa avventura che sicuramente non dimenticheranno mai più nella loro vita diciamo anche i loro nomi Marco 17 anni Cristiano 16 Davide 18 Adam 17 Emanuel 17 anni eccola qua guardate qua che meraviglia stessa cosa sul Corriere Adriatico al termine della scuola insieme verso Santiago la promessa di cinque amici nel segno della condivisione raccolta di fondi magari chiedete anche ai ragazzi che hanno preso a pugni quel passante così per una sigaretta se vi accompagnano portateli con voi che magari un po' così si vedono la vita in modo diverso allora salvate gli extremis dalla polizia invece questa è una storia che sempre dalla pagina di favola del carriero di oggi ci racconta di una donna una donna con il male di vivere una donna giovanissima 40 anni ieri mattina dopo che non rispondeva al telefono al suo fidanzato aveva deciso di togliersi la vita si era presa c'era una bottiglia vuota di alcol etilico che aveva ingerito questa quarantenne nessun biglietto nessun sms però per fortuna ed è stato bravo sia il compagno ma anche i poliziotti che a un certo punto sono entrati del commissariato di Fano che sono entrati e hanno trovato questa quarantenne che insomma poi gli hanno fatto la lavanda gastri che era già avviata verso il cammino eterno c'è un'altra storia invece sulla pagina 16 del Corriere Adriatico una storia che riguarda sempre Fano e una fanese che la vedete qua in questa fotografia allora Sampa e San Patrignano San Patrignano la collina della speranza sono rinata ora aiuto le altre da Fano San Patrignano Carmen Sisti ex ospite oggi è la responsabile del centro minore femminile l'eroina è tornata oggi le ragazzine sono vuote senza educazione e coscienza delle cose io ero consumata dalla droga pesavo 39 chili racconta senza questo percorso quindi a San Patrignano sarei morta racconta a Gianluca Murgia in questo articolo molto interessante da leggere sul Corriere Adriatico intanto da Fano invece mangereste fuori il gelo di corsa i ristoratori si preparano alle riaperture ma le incognite frenano gli entusiasmi pochi coperti e dunque per qualcuno insomma non ne vale la pena ecco in qualche modo riaprire l'accordo invece sul metodo un patto scritto si afferma alla linea dell'area minardiana a Fano sul Corriere Adriatico Lorenzo Furlani racconta della riunione di maggioranza che tra l'altro è andata oltre il coprifuoco delle 22 ma comunque l'intesa su tre temi centrali rinviata dunque al prossimo incontro ma quello che c'è da dire è che in sostanza è stata rinnovata la lealtà alla maggioranza di seri dunque è stata confermata la fiducia al sindaco mentre il Movimento 5 Stelle sempre di Fano ridate i soldi delle bollette degli aumenti delle bollette a tutti i cittadini sul bilancio invece il Comune di Fano è virtuosissimo ha un sacco di soldi 36 milioni di euro nel cassetto 9 milioni e mezzo destinati al preventivo 2021 concessi rimborsi TOSAP a 71 ambulanti eventi esercenti e agevolazioni unitari a mille utenze poi sempre da Fano via la sosta spina di pesce per dare spazio ai pedoni a giorni l'avvio dei lavori in Viale Dante Alighieri con la perdita di 20 posti auto per Metauro e Arzilla invece due fiumi fiume Torrente al via la fase dei progetti operativi dopo una lunga gestazione regionale partita nel 2014 il Comune affida l'incarico al GAC mentre spaccio davanti al palazzetto dello Sport di Fano un ventenne finisce in manette e poi ancora dalla pagina di Urbino parlami di te una linea diretta con chi ha bisogno il Comitato della Croce Rossa lancia una linea d'ascolto per essere il sostegno a chi è rimasto solo per la pandemia e da Urbino invece il Corriere ospedale Salta Martini Famelina Vitri un silenzio inaccettabile interrogazione su carenza di personale disagi organizzativi l'assessore dice Bozza Asur che però non è completa l'ANA si investe milioni sui ponti e sui viadotti finanziamenti per tutte le strade tornate quasi tutte statali dopo il decennio della provincia 19 milioni di asfalti 9 per le gallerie Comitato ciclovia invece approva la ferrovia accanto alla superstrada e 78 consensi per il progetto il progetto degli architetti in dio con la Fano Urbino dedicata a bici e tecnologia struttura sportiva invece polivalente per praticare calcetto e tennis al Serra Sant'Abbondio costruita con 70 mila euro del bando nazionale periferie apertura anche per altri comuni da Senigallia invece lungomare da Vinci metà a doppio senso intanto le piste ciclabili si tingono di blu dal circolo al sottopasso grande si torna alla vecchia circolazione ma solo dal prossimo autunno infine lo sport Perugia l'UBE è uno show al terzo atto parliamo di pallavolo la finale scudetto questa sera riparte alle 20.30 al Palabarton dall'1 a 1 Anzani dice saremo più cattivi sotto il profilo dell'agonismo e noi ovviamente tifiamo per la L'UBE che è la nostra squadra delle Marche 7.29 per chi ci segue in diretta grazie per averci seguito vi ricordo alle 9.10 l'udienza del Santo Padre alle 4.30 di oggi pomeriggio esplorare i confini parleremo della salute dei ghiacciai alpini e poi alle 21 oltre la bici la dodicesima puntata arrivederci grazie a tutti 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 grazie a tutti